3, 2, 1, vai! 30, sinistra 4 in destra 4, in accenno sinistra e 30, in re, in destra 2, sale destra 2, sale 50, 50 al cartello, accenno destra e sinistra 2 40 al cartello, accenno sinistro in accenno destro 30, al re, sinistra 4 in destra 4 30, al muro, sinistra 4 e 30 a destri diventa destra 3 destra 3, in sinistra 4 in accenno destro e 50, al rovescio, ritardo a poco per destra 4 ritardo a poco per destra 4 40 ai paletti sinistra 3, lunga 3, lunga 50, finirei destra 3, chiude 3, chiude in sinistra 4, lunga scivola e attenzione ritardo allo specchio per destra 2, sale destra 2, sale ritardo 50, sinistri e 50 allo specchio sinistra 3, apre 3, apre 20 al re, accenno sinistra occhio che scivola qua e 30 al paletto sinistra 4, sconnessa in destra 3, apre destra 3, apre 40 al re, destra 4, lunga 4, lunga in re, sinistra 3 in destra 4, chiude 3 4, chiude 3 in sinistra 3, vai 50 fine al re, destra 4 e al rovescio e al rovescio sinistra 4, lunga e al bivio destra 2 al bivio destra 2 destra 2 50 al sinistra 5 chiude al paletto chiude 4 al paletto chiude 4 in accenno destra in accenno sinistra e 50 allo specchio destra 3 scende fidati destra 3 scende fidati alla zebra sinistra 5 e al rovescio sinistra 4 in destra 4 vai 70 al paletto anticipa sinistra 3 anticipa in destra 4 lunga sinistra 3 anticipa in destra 4 lunga sporca 20 allo spiazzo sinistra 3 sinistra 3 occhio qua c'è l'olio sinistra 2 stai in sinistra sinistra 2 in destra 3 in sinistra 4 in destra 3 gira occhio gira in sinistra 4 piano in sinistra 4 lunga piano e al rovescio accenno destra 40 al rovescio stai sinistra per Shikang entra sinistra Shikang entra sinistra in accenno sinistra 60 al verde addosso accenno sinistra scende al palo destra 3 occhio dietro che non sia umido al palo scende in destra 3 alla zebra sinistra 3 lunga fidati che è asciutto sinistra 3 lunga in destra 4 e 20 indosso al rovescio sinistra 4 scende occhio umido dietro in destra 3 occhio qua sotto in destra 3 in sinistra 3 gira sinistra 3 gira e su dosso attenzione diventa destra 3 scende destra 3 scende destra 3 scende in accenno sinistra e alla casa destra 3 alla casa destra 3 in sinistra 3 e 50 allo specchio destra 2 due tempi destra 2 due tempi 50 a chiesetto dritto dosso e 30 accenno destra e al rovescio chicane entra sinistra chicane entra sinistra vai Piero vai 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 stacca qua vai 20 stai bene a destra e alla pianta in versione sinistra stai bene a destra vai 20 accenno destra scende 60 al verde accenno destra 30 alla zebra sinistra 3 chiude 2 occhio questa che chiude 2 chiude 2 qua occhio sta bene buttala dentro in accenno sinistra accenno destra 50 al cartello accenno sinistra e 30 alla zebra ritarda per destra 3 alla zebra ritarda per destra 3 sporca scivola 40 sinistra 4 lunga sudosso 50 e occhio dietro che non sia umido vai tranquillo 50 al palo accenno sinistra vai tiri giù 50 alla casa destra 3 sudosso destra 3 sudosso e 50 sfiora i mattoni sinistra 3 secca sinistra 3 secca 60 destri 30 al palo scende sinistra 3 scende sinistra 3 30 letole destra 3 vai destra 3 vai 50 ai paletti accenno sinistra e 30 al paletto sinistra 1 30 al paletto sinistra 1 sinistra 1 60 scende e i paletti ritarda poco per destra 2 vai ritarda poco per destra 2 vai 70 al palo destra 3 destra 3 in sinistra 4 lunga lunga diventa 3 sinistra 4 lunga lunga diventa 3 20 al verde destra 4 scende fine ray destra 4 fine ray nel fondo destra 4 e 50 ray sinistra sinistra 3 giro umido occhio qua piano 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 Davide rallenta pure vai rau Davide stana